della nostra Rita Pavone nazionale, lo balleremo tutti insieme perché ritorna il GGG Musica! Musica Abbiamo un ritmo che facciamo dire che questo ritmo può dire che il mio saluto è il GGG E se voi pensate che tutto c'è che c'è che c'è, voglio dire che c'è che c'è e invece questo ritmo vuol dire che voglio perdere la pace E così facciamo un ritmo oggi e c'è, tu mi puoi dire quello che puoi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.